Ecco Federico, abbiamo trovato i pinguini. Guardate come stanno giocando, guarda che belli sono, si sta divertendo hai visto? Guarda come si divertono, guarda quanti tutti in acqua oggi. Guarda hai fatto amicizia, prova a risalire su, aspetta piano che ti cerca. Guarda qua un altro, questo è più grosso, questo più piccolo vuol giocare con te hai visto? Sì guarda, qua è la mamma ed è contenta vero? Sì perché state giocando. Sembra che ho la corda attaccata. Guarda, guarda. Io forse un altro pinguino, io lo so che è bello. Ma guarda come ti cerca. È veramente bello questa cosa che mi cercano tutti. Sì? Ha fatto conoscenza. È bellissima questa cosa. Guarda. Guarda. Ecco. Ma che bello. Ciao. Ciao. Guarda adesso. Guarda adesso. È partito, saluta. Allora. Ciao pinguino. Ci vediamo la prossima volta che torneremo. Sì e torneremo presto. Ciao. 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 Anche voi. Ciao.